Sta andando molto bene, devo dire sono molto molto soddisfatto della scelta, un percorso devo dire molto interessante, in parte faticoso però perché è molto impegnativo, però ne vale la pena. Manca ancora poco perché siamo quasi al rush finale, ho trovato interessante la qualità della formazione offerta dai docenti che devo dire si annota veramente una preparazione di altissimo livello e quindi sono molto molto soddisfatto da questo punto di vista. La parte interessante di tutto il percorso formativo devo dire che l'ho trovata nella work experience che fa parte poi del master che ognuno di noi poi sceglie. La work experience mi ha permesso anche di mettere in pratica quello che viene appreso, uno apprende durante il master e devo dire che si impara anche a lavorare. Sono davvero contento perché io che opero da tanti anni sul web ho capito che veramente c'era tanto 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 ancora da apprendere e grazie anche proprio alla scuola Digital Coach devo dire chapeau.